Un'analisi di sindrome Un'analisi di sindrome Un'analisi di sindrome Un'analisi di sindrome Derita pone l'accento sul ruolo dei corpi intermedi che come la Camera di Commercio di Cosenza contribuiscono in modo forte alla governabilità di un territorio. Il Paese dopo tanti anni di quello che abbiamo chiamato disintermediazione, cioè questo rapporto diretto della politica con il cittadino, della politica con le imprese, comincia a capire che ha bisogno invece di un ritorno alla mediazione, di un ritorno alla lettura intelligente dei possibili compromessi. Ed è lo sforzo che sta provando a fare la Camera di Commercio di Cosenza, non soltanto ma anche altre realtà del territorio della Calabria. Questo ritorno alla mediazione, allo star vicino, è quello che dicevo prima, cioè l'aver capito che il benessere collettivo passa attraverso la ripresa individuale, la voglia di sviluppo individuale. E' una sfida difficile, è una scommessa complicata, ma è una scommessa che può essere vinta. Giuseppe Derita ha sempre parlato dei corpi intermedi, noi siamo un corpio intermedio come l'associazione delle categorie. L'abbiamo detto sempre più di una volta, anche gridando alcuna volta, che i corpi intermedi sono una parte importante dello Stato. E adesso i corpi intermedi, nonostante una politica nazionale, ma anche negli anni passati provinciale, comunale e regionale, hanno cercato di, non dico di distruggere, ma di non considerarle. Oggi quei corpi intermedi stanno in realtà aiutando non solo la politica, ma il sistema istituzionale, quei corpi intermedi sani, quei corpi intermedi che in realtà danno servizio non solo alle imprese, ma si mettono a disposizione per le istituzioni, non che utilizzino le istituzioni. Sulla Calabria, il segretario generale del Censis si dice convinto di una possibile inversione di tendenza, il turismo, sottolinea, offre un'opportunità unica e vantaggiosa. Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, non è che ci possiamo nascondere, non possiamo dire che è una regione ricca, che è una regione che sta bene, sarebbe, come dire, una distorzione della realtà. Però è una regione che sta facendo, forse fra le poche in Italia, uno sforzo che noi abbiamo chiamato di lungimiranza. In Calabria c'è invece il senso di uscire da questo isolamento, ce la farà, non ce la farà, è presto per dirlo. La mia sensazione è positiva, cioè che saprà cogliere le opportunità che in questo momento le si pongono davanti. Nel corso della presentazione il presidente Algeri ha proposto al segretario del Censis la realizzazione di un rapporto sulla situazione sociale della Calabria per fornire ai decisori istituzionali ulteriori strumenti di conoscenza del territorio, in grado di supportare scelte di programmazione più consapevoli. L'ingegnere De Rita ha dato disponibilità, chiedendo ovviamente il coinvolgimento dei principali attori sociali, oltre al necessario supporto offerto dalla Camera di Commercio. L'ingegnere De Rita